e si 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 ci siamo stasera in aile youtube del convento di lonato abbiamo l'onore di ospitare un trio di fama mondiale è un trio eccezionale è un trio incredibile ha un nome il vostro trio c'è un nome il vostro trio come lo dici no numero di blues boys i blues boys e te così si ti ascoltano fuori no si si no ma ti ascoltano i fans che fatti abbiamo la gianna che si strofina clamorosamente per cercare di entrare ecco tu fai un effetto diverso però va bene lo stesso va bene lo stesso vi presentate ragazzi partiamo da camicina bianca amicina bianca leonardo leonardo in arte leo leo ok il tigrone il tigrone del gruppo il leoncino si fa il mio rugito perfetto ok leo il tigrone del gruppo poi abbiamo camicina azzurra federico detto mazzo il pazzo non si capisce perché il pazzo del gruppo attenzione un gesto di stima un gesto di stima da parte del collega giustamente ha fatto la prova microfono in un altro modo poi abbiamo camicina scozzese detto mazzetto mazzetto perché in proporzione è minore di mazzetto sul mazzetto si è attivata la gianna da fuori eh ma gianna ti ne voglia eh abbiamo già nella fuori che va bene allora siete venuti qua per festeggiare la vostra amica per mangiare a per mangiare perfetto tu per bere e tu per per cantare perfetto di gianna non gliene può fregare niente a nessuno quindi che fai continui a premere per entrare vuoi il sombrero attenzione abbiamo un pazzo che si vuole coprire col sombrero attenzione dichiara che che fai attaccalo attaccalo attenzione che mazzetto si sta prolungando ma gianna cerca di tentarci la fate entrare negativo negativo ecco ok gesti di stima continuano a scambiarsi va bene mazzetto volete raccontare solo brevemente un aneddoto del perché vi lega a gianna si sta simpatica si sta simpatica un attimo di follia e mazzetto si apre da dentro quindi gianna non ce la farai mai entrare gianna sta accettando in tutti i modi si sta rappicando sui vetri è ufficiale gianna resta fuori attenzione ha chiamato edu armani di forbici per cercare niente niente da fare non si riesce attento attenzione ha preso attentata anche il vetro ma devi dire cosa ti lega la gianna cosa ti lega la gianna l'altro isolante ok vuoi essere isolato dalla gianna però ragazzi so che che fai ti scaccoli perfetto va bene allora so che voi potete dare di più vero noi sempre sempre alla gianna anche diamo tutto anche a gianna date tutto anche alla gianna va bene ecco qua un saluto gioioso verso la gianna come al solito va bene e cosa dite gliela dedichiamo si gliela dedichiamo va bene ok che così almeno si calma sennò è un delirio possiamo partire allora ragazzi partiamo in questa notte di venerdì perché non dormi perché sei qui perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te cosa ti manca cosa non hai cos'è che sei qui se non lo sai se la tua corsa finisse qui forse sarebbe meglio così ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te tu ne segui la scia risalendo vedrai quanti cadono su e per loro tu puoi farti più in questa barca persa nel blu noi siamo solo dei marinai tutti sommersi non solo tu nelle buffe dei nostri guai perché la guerra la carestia non sono scene viste in tv e non puoi dire e lascia che sia perché non avresti un po' colpa anche tu si può dare di più perché dentro di noi si può dare di più senza essere eroi come fare non so non lo sai neanche tu ma di certo si può dare di più sulle nostre vite rubano i minuti di un'eternità e se parlo con te e ti chiedo di più e se parlo con te e ti chiedo di più e perché solo io non sono tu si può dare di più perché dentro di noi si può dare di più senza essere eroi come fare lo so non lo sai neanche tu ma di certo si può dare di più per fare non lo sai neanche tu ma di certo si può dare di più E si, si, gli applausi spontanei del pubblico da fuori, proprio in delirio totale, ecco qua, che fai? Attenzione, il mazzo vuole dare di più, vuoi dare al microfono? Sfunta la luna del monte! Sfunta la luna del monte, aspetta, vuoi dire qualcosa al pubblico, volete dire il blues? E che solito saluto, va bene, mi salutate al pubblico ragazzi! Un bacio al pubblico, dai, un bacio al pubblico, ciao, 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 ciao!